Puglia per la vita compie 10 anni. La nostra fondazione si occupa di solidarietà e tante dolorose storie le abbiamo risolte anche grazie al vostro aiuto. Aiutare chi soffre è un dovere quotidiano e quotidianamente ci impegniamo a dare speranza a chi l'ha perduta. Puglia per la vita è con voi e per voi. Le malattie si sconfiggono con medici e farmaci ma anche con l'aiuto concreto di ognuno di noi. Puglia per la vita sarà con voi e per voi.